Dopo l'ordinazione avvenuta nei mesi scorsi di tre nuovi presbiteri, Don Carmine Lauriello, Don Giuseppe De Marco e Don Mario Bamonte, la Chiesa della Diocesi di Vallo della Lucania vive un nuovo momento di festa. Giovedì 4 febbraio alle ore 17, presso il convento di San Francesco di Lustracilento, riceverà per l'imposizione delle mani del Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero l'ordinazione diaconale Fran Massimo Giovanni Calvano della famiglia dei frati minori della provincia religiosa salernitano-lucana. La presenza francescana sul territorio diocesano del Cilento è da sempre molto attiva, una spiritualità che supporta il territorio con tante parrocchie che sono rette da sacerdoti appartenenti alla famiglia dei frati minori. L'ordinazione di Fran Massimo, che svolge il suo servizio ministeriale presso il convento francescano di Lustracilento, rappresenta l'ultimo passo dei ministeri ordinati prima dell'ordinazione presbiteriale, con la quale il frate francescano inizierà a svolgere il suo ministero sacerdotale.